Costruzioni e servizi si evidenziano come le locomotive dell'economia del fluo di Venezia Giulia nel primo semestre del 2024. Soffre la manifattura su cui pesa il forte calo dell'export verso la Germania, che insieme agli Stati Uniti rappresentano i paesi da cui più dipende la bilancia commerciale regionale, che si mantiene positiva grazie ai grandi volumi assicurati dalla cantieristica navale. I dati emergono dall'analisi del centro studi della Camera di Commercio Pordenone-Udine. Beh, è indubbio che il contesto internazionale va a pesare anche sulla nostra regione. Quello che sta succedendo nella locomotiva d'Europa alla Germania impatta sulle nostre filiere della meccanica, dell'arredo, dell'automotive e quindi chiaramente è una situazione che soprattutto il settore manifatturiero ne sta risentendo in un certo maniera positiva. Estrapolando le dati complessivi, il settore navale, la fotografia che emerge è la cartina di tornasole delle sofferenze della manifattura a causa della crisi tedesca. Se noi andassimo a scorporare tutte le navi alla cantieristica, il dato del Friuli Venezia Giulia precipiterebbe almeno 10,4%. È vero che però appunto navi e imbarcazioni costituiscono una grossa parte del nostro export e valgono molti milioni di euro quindi appunto la consegna prima piuttosto che dopo di una grossa imbarcazione può muovere molto questo dato. Però il dato della crescita delle navi e imbarcazioni è proprio un più 300% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In un contesto di indicatori che non tracciano certo un profilo catastrofico ma impongono delle riflessioni che investono anche il mondo del credito alle imprese, va sottolineato di contro un dato occupazionale molto buono e in linea se non superiore alla media nazionale. Abbiamo un tasso di occupazione che è più vicino alla media europea che alla media italiana. Come Friuli Venezia Giulia siamo al 70%. E un tasso di disoccupazione più o meno al 3,4% che è tra i più bassi appunto che abbiamo mai registrato.